e avrà una tappa speciale quest'anno il treno verde 2015 la storica campagna nazionale di lega ambiente gruppo ferrovie dello stato partita il 18 di febbraio e dedicata al tema dell'agricoltura e dell'alimentazione in vista di expo milano 2015 avrà come sosta simbolica a matera con un evento che si terrà domenica primo di marzo quest'anno una nuova avventura una tappa a matera dove non ci sono le ferrovie le motivazioni sono molteplici una più forte di tutte è quella che in matera l'intera basilicata devono orientarsi verso un'agricoltura di qualità che è il messaggio forte che il treno verde porta in giro per l'italia quest'anno da bari tappa ufficiale del treno verde 2015 la delegazione di lega ambiente insieme a cittadini scuole associazioni raggiungerà matera con una staffetta ecologica a piedi in bici sui pattini a cavallo perfino in buon golfiera tempo permettendo portando in piazza San Giovanni i temi protagonisti della campagna tra i promotori della tappa materana la giornalista lucana Carmen Lasorella la partecipazione la condivisione soprattutto un obiettivo seminare futuro e quindi da matera la speranza che nasca un grande progetto dedicato al grano ma nell'ambito del passaggio dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura che rispetta la terra biologica per fare di questa città non solo la capitale della cultura ma anche la capitale del grano